Oggi vi propongo una parte della storia della massoneria italiana poco conosciuta, la sua presenza in una terra molto vicina all'Italia, la Libia. Se siete interessati seguitemi dopo la sigla. Cari tutti, il mio nome è Manuela, sono una storica che si occupa di storia della massoneria. Oggi vi parlerò della massoneria italiana in Libia. In questa occasione vorrei sottoporvi i primi e parziali risultati delle ricerche che ho portato avanti sulla presenza massonica italiana in Libia. La massoneria italiana era presente in Libia ben prima della corsa alla colonizzazione che l'Italia intraprese in quelle regioni all'inizio del Novecento. L'istituzione era una delle manifestazioni della presenza italiana nel territorio, una sorta di avvamposto della italianità all'estero. Non a caso, le loggie furono sempre fondate nelle città o nei centri più importanti, dove era più forte la presenza degli italiani. Al loro interno si raccoglievano gli esponenti della locale comunità italiana. Non furono mai registrate iniziazioni di autoctoni. La prima loggia, dipendente dal Grande Oriente d'Italia, chiamata Stella Africana, fu fondata a Tripoli nel 1862. Essa seguiva il rito simbolico. L'alloggia, nel 1863, è all'obbedienza del GOI, con sede a Torino. Il bollettino ufficiale dà notizia che la corrispondenza per questa alloggia andava inviata a Livorno. Questo non deve sorprendere, perché non è altro che una prova delle fortissime relazioni che intercorrevano tra gli ebrei livornesi e i loro correligionari che si trovavano in Libia. La vita di questa alloggia non è lunga, infatti nel 1872 le sue attività cessarono. Si chiudeva così la prima esperienza massonica italiana in terra libica. Fu un'esperienza breve, ma non vana, perché già durante la seconda metà degli anni 60 dell'Ottocento fu costituita, sempre a Tripoli, un'altra alloggia, la Abramo Lincoln. Ma anche di quest'ultima non si hanno notizie documentarie. L'unica notizia certa è che non esisteva più nel 1891. Continuando con l'esplorazione della vita massonica libica, incontriamo un'altra alloggia, la Cirena Aica, fondata a Tripoli nel 1887. Era un'alloggia di rito simbolico e Giuseppe Aira, che dirigeva un osservatorio stellare, l'unico tra Tunisi e Alessandria d'Egitto e uno dei più moderni e efficienti nel Mediterraneo, fu tra i suoi fondatori. Con l'inizio del nuovo secolo, i registri rilevano la presenza di una sola alloggia, la Vigilanza, fondata nel 1900, che seguiva il rito scozzese antico accettato e che aveva come indirizzo la residenza del professor Giannetto Paggi, direttore della scuola maschile italiana. Questa alloggia fu costituita da massoni, che avevano già operato all'interno dell'alloggia cirenaica. L'alloggia viene demolita alla fine del 1902, infatti non ve ne traccia negli annuari mazzonici successivi. Malgrado la moria di loggie, l'ambiente massonico era sempre in fermento. Nel 1902, sotto legida della loggia propaganda massonica di Roma, fu costituito un triangolo, che fu attivo dal 1903 al 1911. L'indirizzo di riferimento del triangolo era presso uno dei massoni più importanti della storia della massoneria italiana, Adriano Lemmi, a Firenze. Per assistere alla fase di vera fioritura delle loggie italiane in Libia, si dovrà attendere la conquista italiana della regione. A pochi mesi dall'occupazione italiana, sorse a Tripoli l'alloggia 5 ottobre. Il nome riporta alla mente, diciamo, la data in cui gli italiani occuparono la città. L'alloggia seguì Verrito Scozzese. Nel 1913 è venerabile il professor Giannetto Paggi, che già aveva partecipato all'interno dell'alloggio alla vigilanza. Nel 1921 si unificò alla consorella Leptis Magna, e prese il nuovo nome di loggia 5 ottobre Leptis Magna. Una delle loggie più importanti della comunione italiana in Libia fu l'alloggia Cirene, fondata a Benghazi nel 1914. Sono stati conservati registri matricolari, per cui si può capire la sua composizione, chi erano i suoi membri, quale è la loro origine geografica, professione, eccetera. Dallo studio delle liste matricolari, si evince che su un totale di 126 fratelli che frequentarono l'alloggia, dalla fondazione fino al novembre 1923, data dell'ultimo avanzamento di grado, Tutti i membri erano italiani. Dal 1922 l'alloggia ha indirizzo presso un circolo italiano, circolo umanitario e cultura. Sono invece del 1925 le ultime notizie relative all'alloggia, e al fatto che fossero state perpetrate persecuzioni fasciste contro i suoi esponenti. Molti documenti ufficiali dell'alloggia che si trovavano a casa del Venerabile furono sequestrati dai fascisti. Per completare il quadro del sistema massonico in Libia, non si possono trascurare le loggie fondate dalla serenissima Gran Loggia d'Italia. La prima alloggia di questa obbedienza fu la Onore e Giustizia, fondata nel 1918 a Tripoli. Di essa si hanno scarse notizie, comunque esisteva ancora nel 1922. A Tripoli furono fondate anche la Raul Palermi, la Nazionale numero 211, il Risveglio e il Risorgimento. Ancora a Bengasi l'alloggia nazionale numero 55 nel 1918, la Polema nel 1921, a Derna l'alloggia Gabriele d'Annunzio costituita nel 1922, l'alloggia nazionale numero 137 fondata nel 1922, a OMS nel 1921 fu fondata l'alloggia Lebda. Come le loggie del Goi, anche quelle dell'obbedienza di Piazza del Gesù attingevano i propri adepti dalla sola comunità italiana ed erano dislocate nei principali centri urbani. Grazie per aver seguito questo video, se ti è piaciuto l'argomento ti prego di mettere un like, di iscriverti al canale YouTube, di cliccare anche sulla campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornato sui video. Grazie! Grazie!